Attenzione per favore, procedete direttamente verso la caserma dall'altra parte del cortile. Lasciate qui cellulari, fotocamere e videocamere. Ellen, era importante averti in squadra. Non aver paura. Paura di cosa? Ora le farò una serie di domande di verifica. Attualmente è in posizione seduta? Sì. Sente dolore? Il mio corpo sì. Lei è umano? Il mio corpo lo è. Il generale Queen vuole vederla nel suo ufficio, dice che è urgente. È al corrente di un imminente attacco contro il pianeta Terra? Le ripeto la domanda. L'avete sentito? Sentito cosa? Lasciatemi andare. Se la Terra muore, tu muori. Se tu muori, la Terra sopravvive. L'avete sentito? Lo saram. Se la Terra info. Quattuto.